E dopo i 5 stelle è il turno dei leghisti. Ancora oggi c'è grande agitazione tra i deputati padani, dopo le proteste di ieri al Parlamento di Strasburgo e a Palazzo Chigi. Al Parlamento europeo i rappresentanti della Lega Nord hanno interrotto il presidente Giorgio Napolitano con grida e cartelli anti-europeisti, mentre il capo dello Stato portava all'attenzione degli eurodeputati la necessità di uscire dall'austerity e allo stesso tempo di non abbandonarsi ai responsabili politiche demagogiche. Alla Camera invece, dopo la fiducia al cosiddetto decreto svuota carceri, il deputato del carroccio Gianluca Buonanno ha sventolato delle manette e, mentre la presidente Laura Boldrini lo richiamava e invitava equestori a intervenire, il leghista si è avvicinato al banco del ministro Cancellieri e ha lanciato le manette di fronte alla guardasigilli. Questa mattina un nuovo cartello è stato mostrato da Buonanno durante la discussione. Nel pomeriggio i lavori continueranno fino al voto finale sul decreto che prevede, tra l'altro, un aumento della detersione della pena, 75 giorni invece di 45 ogni semestre, l'uso ordinario di braccialetti elettronici in caso di arresti domiciliari e l'istituzione di un garante nazionale dei detenuti presso il Ministero della Giustizia.